Ciao carissimi amici, purtroppo la guerra in Ucraina va avanti, le battaglie sono ferocissime, il comando ucraino sotto pressione ovviamente del Pentagono, delle Stati Uniti d'America, di chi paga per questa guerra è obbligato di sacrificare i propri uomini in maniera veramente disumana, ci sono questi assalti, attacchi dei militari ucraini contro le linee russe che sia ucraini che russi ormai hanno chiamato gli assalti di carne perché è chiaro che molte persone che partecipano a questo tipo di iniziative militari finiscono o uccisi o mutilati, uccisi, feriti, perdonatemi, gravemente durante gli scontri di fuoco, saltano sulle mine, insomma non c'è nessun tipo di spostamento importante sulle linee, la zona grigia rimane sempre lì dove era, cambiano di qualche chilometro le posizioni o dei russi o di ucraini, recentemente sono proprio i russi che hanno cominciato a sfondare le posizioni ucraine e hanno preso in diverse direzioni le posizioni favorevoli, ovviamente questo non si può chiamare una grande controfinsiva russa perché adesso non è nell'intenzione dei russi di fare una vera e propria controfinsiva, i russi si stanno difendendo, le loro operazioni militari oggi portano soltanto carattere difensivo però anche nel difendersi loro si spingono un po' avanti, prendono le posizioni diciamo più favorevoli, tutto questo avviene come ho detto all'interno della zona grigia, quindi ciò che avviene all'interno della zona grigia non può essere definito una grande e rapida vittoria perché si tratta di una zona dove è normale che alcuni luoghi vengono abbandonati, poi ripresi, poi abbandonati di nuovo, si tratta di delle battaglie attive e ovviamente i russi in questo momento stanno avendo meglio sull'esercito ucraino perché all'interno della zona grigia l'iniziativa tattica sicuramente dalla parte dei russi, quello che riescono a fare gli ucraini è raccimolare le loro forze, cercare di comporre le squadre d'assalto, i gruppi tattici d'attacco vanno verso le linee russe, finiscono sempre massacrati, i russi usano aviazione, usano le forze missilistiche, usano in maniera massiccia l'artilleria ma soprattutto i russi hanno prevalenza nei droni. Voi sapete che in questa guerra i droni sono entrati sul campo di battaglia in maniera molto ampia, se prima nelle guerre precedenti i droni erano comunque i mezzi utilizzati molto di meno, soprattutto per l'osservazione, insomma c'era un utilizzo dei droni abbastanza limitato dal punto di vista tattico, adesso i droni rappresentano un vero e proprio pericolo. Se voi andate a vedere sul mio canale privato Telegram Nicola e Lilian, canale ufficiale, io vi invito tra l'altro di abbonarvi a questo canale perché ci sono tantissime informazioni interessanti. In uno degli ultimi video che ho pubblicato negli ultimi giorni è dedicato proprio al ragionamento che io cerco di portare all'attenzione dei miei abbonati, dei miei iscritti, di chi ascolta e legge le notizie che condivido, io cerco di spiegare che la Russia sta vincendo questa guerra soprattutto dal punto di vista economico, proprio perché utilizzando le armi create anche a poco costo, in questo caso nel caso del video di cui vi sto parlando, si tratta di un drone costruito con costo totale di 600 dollari, così costa il drone che costa di più, un FPV drone ovviamente non supera 1000 dollari, di solito rimane tra 200 e 600 dollari. Questo tipo di drone, cari amici, oggi viene utilizzato dai russi per distruggere i mezzi militari, i mezzi corazzati che costano milioni di euro. Ad esempio in questo video i russi hanno distrutto con un drone FPV un caro armato statunitense, perdonatemi, un caro armato tedesco, Leopard 2A6, questo caro armato è stato distrutto con un solo colpo, con un drone che costa tra 200 e 600 dollari, un caro armato che costa circa 10 milioni di dollari, quindi parliamo di una vittoria economica e tra l'altro questa vittoria economica ogni giorno viene sempre più chiara perché i russi continuano a investire tantissimi soldi nella produzione dei droni, preparano tanti operatori dei droni, mentre l'Occidente non è in grado di schierare tutta questa forza in prima linea adesso. L'esercito ucraino ha droni ma comunque sono pochi, l'esercito ucraino quando schiera i mezzi blendati della NATO o quelli che ne sono rimasti dei loro magazzini, dei magazzini sovietici, loro li perdono sempre. Così di recente durante un attacco ucraino organizzato verso Ciasso Fiar, questo è stato uno degli ultimi più importanti assalti svolti dalle truppe ucraine contro le linee russe, si aspettava molto tra l'altro da questo assalto in Ucraina perché hanno preparato dei riparti scelti, hanno preparato la gente determinata, lì hanno partecipato a questo assalto quanto pare anche persone dei battaglioni nazisti, gente molto motivata, hanno preparato dei mezzi appositamente, ci sono stati carri armati Leopard, ci sono stati BMP Bradley che sono i blindati trasporto truppe di produzione statunitense, sono partecipati anche i blindati cingolati di produzione svedese Cv90 e si è trattato ovviamente di un grande piano di sfondare le linee russe. Questa cosa è avvenuta a Ciasso Fiar, nei pressi di Artyomovsk, che i russi lo chiamano Artyomovsk per ucraini ovviamente, e Bakhmut, lì ci sono ancora le battaglie molto aspre, Zelensky non vuole lasciare l'idea di riprendere Bakhmut, ovviamente perché per lui e per molti ucraini questo punto rappresenta soprattutto una vittoria d'immagine, cioè non tanto importante per la situazione strategica, anche perché la città è quasi totalmente distrutta, ci sono rimasti pochi edifici in piedi, è molto difficile mantenere le posizioni all'interno di questa città, in effetti i russi oggi li mantengono ma spendono molto dal punto di vista di investimenti militari per tenere questa città sotto il loro controllo. Gli ucraini fanno di tutto per riprenderla proprio perché per loro è importante come un simbolo simbolo della probabile vittoria. Quindi hanno lanciato questo assalto, questo attacco con questi gruppi tattici, c'erano diversi gruppi tattici, allo stesso momento, allo stesso all'ora del mattino, loro sono entrati in azione, i russi sapevano del loro movimento perché attraverso droni i russi hanno seguito tutta la loro preparazione per questo attacco, quando loro sono arrivati abbastanza vicino alle linee russe, sono saltati sulle mine, poi i russi hanno cominciato a spararli con tutti i tipi di armi che hanno, compreso soprattutto i sistemi di missili reattivi guidati anticarro, con i cannoni, con artilleria e così via e in pochi minuti tutto questo grande ammasso di mezzi e di uomini si è trasformato semplicemente in un cumulo di macerie e di cadaveri. Si tratta di l'ennesima sconfitta veramente brutta, veramente grave dell'esercito ucraino. Se voi volete vedere i mezzi, io ho condiviso sul mio canale privato Telegram, ho condiviso tutte le foto dei mezzi, è veramente una cosa triste vedere tutti questi mezzi militari bruciati, distrutti in questo modo, anche perché all'interno ci sono uomini morti, è veramente triste pensare che nonostante l'evidenza di perdita in questa guerra, perché l'Ucraina ormai questa guerra l'ha perso da tanto tempo, ci sono ancora i politici, ci sono ancora i corrotti che continuano a mandare i ragazzi ucraini verso questo massacro, proprio perché i corrotti grazie a questa guerra guadagnano tantissimi soldi, e quindi per l'esercito ucraino si è trattato dell'ennesima sconfitta, hanno perso di nuovo carri Leopard, hanno perso quattro carri armati Leopard, hanno perso i blendati CV-90 svedesi, hanno perso i BMP sovietici, hanno perso i Bradley statunitensi, sono stati uccisi tantissimi militari ucraini, si parla di più di 100 militari uccisi rimasti sui campi, perché ormai gli ucraini abbandonano i loro cadaveri sui campi, anche questo è un grave segno della debolezza, del collasso dell'esercito ucraino, della bassa morale, perché i militari ucraini non abbandonano soltanto i morti, ma anche i feriti. Ci sono anche video che io condivido sempre sul mio canale Telegram, io vi invito di abbonarvi per questo, per essere al corrente di ciò che succede realmente in prima linea. Ci sono tantissimi video dei russi, dove loro esplorando territori ripresi dagli ucraini, dove una volta si trovavano ucraini, trovano tantissimi cadaveri ormai decomposti dei militari ucraini, abbandonati semplicemente nel bosco, nelle trincee, nessuno le ha dato neanche una sepoltura, alcuni di loro sono i cadaveri che riportano i segni che ci fanno capire che questi uomini erano abbandonati ancora vivi, quindi erano feriti e i loro compagni li hanno abbandonati alla morte certa, non li hanno prestato nessun soccorso. Ad esempio ci sono delle foto che ho condiviso di un cadavere di un militare ucraino che è stato colpito alle gambe, è stato abbandonato sicuramente dai suoi commilitoni mentre era ferito. Lui, poveretto, ha cercato da solo di fissare i lati emostatici sulle gambe per evitare la perdita di sangue, ha riuscito a mettere i lati emostatici ma non ha riuscito, non gli è bastato le forze per stringerli e quindi lui è morto così, con le mani, che teneva questi lati emostatici, è rimasto così sul campo. Questo ovviamente hanno trovato i militari russi quando hanno visto questa cosa, hanno detto guardate che schifo qua, viene abbandonato dai propri compagni una persona ancora viva, cioè una cosa dal punto di vista militare veramente indegna. Si può comunque pensare di abbandonare un cadaver perché nella situazione difficile ormai si tratta di una persona che è morta, ma abbandonare una persona che è ancora viva, non aiutare, non prestare aiuto, almeno mettete gli stelaci emostatici così li darete altra mezz'ora, un'ora di tempo, magari arrivano i russi e lo salvano se voi non siete in grado di portarlo via, però almeno fissate gli stelaci, fattelo vivere ancora una mezz'ora, un'ora, chissà magari succede qualcosa. Niente, hanno abbandonato così, ovviamente un uomo con ferite gravi quando, soprattutto quando sono aperte le arterie, in un tempo di 6 minuti, un uomo di 70-90 kg muore, muore per la perdita del sangue, non ha più neanche forze, lui non aveva le forze per stringere i lati emostatici, questo è una cosa veramente tremenda. Questa è la situazione reale, questo ciò che accade in direzione di Bakhmut e anche in tutta la linea di contatto tra l'esercito ucraino e l'esercito russo, quindi questo concreto tentativo di assalto delle truppe russe è finito per l'ennesima volta con un grande fiasco per ucraini, con una grande sconfitta, loro sono dovuti scappare, ritirarsi, abbandonando mezzi bruciati, abbandonando i loro cadaveri e i loro feriti e anche una parte di soldati ucraini durante questa battaglia si sono arrese ai russi. Questo tra l'altro, cari amici, dimostra come moralmente sono ormai deboli i militari ucraini, soprattutto quelli di loro che sono stati portati nell'esercito contro la loro volontà, quelli che si trovano nell'esercito ucraino perché non vogliono fare militari ma perché sono stati portati lì a forza, radunati per le strade come succede, come accade adesso in Ucraina, anche questi video io spesso condivido sul mio canale privato, ci sono tantissimi video di questi ragazzi ucraini che vengono in pratica picchiati, maltrattati dai commissari di arruolamento. Quindi amici, se vi è piaciuto questo video mettete il like, se non vi è piaciuto mettete dislike, se siete curiosi, volete fare qualche domanda, commentate, fate sapere cosa ne pensate, condividete questo video con i vostri amici, con i vostri contatti, io vi invito ad iscrivervi anche al mio canale YouTube, così vi arrivano i messaggi quando io carico i miei nuovi video e vi rinnovo l'invito di iscrivervi, di abbonarvi al mio canale Telegram perché lì pubblico tantissime informazioni e non c'è nessuna censura, ci sono video dalla guerra, video veri, video crudi, spesso sono video che ci raccontano molto di più di quanto vi può raccontare un articolo in qualche giornale grande di due pagine. Per questo è molto importante anche vedere questi video per capire come si vive in guerra, che cos'è la guerra, com'è la realtà di questa situazione. Inoltre, amici, vi invito di approfondire il mio nuovo libro, è uscito in tutte le librerie d'Italia, si chiama La guerra e l'odio, è un libro dedicato alla guerra in Ucraina, leggetelo, fatemi sapere cosa ne pensate, vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene.